Possiamo dire che al centro del territorio vandeano vi sia sostanzialmente il fiume Loira, che è il vero elemento di congiunzione del territorio, l'elemento caratterizzante, ed è l'elemento che permette la difesa della Vandea, ma sarà anche purtroppo un importante elemento della repressione della Vandea. Ebbene, noi immaginiamo la situazione, siamo sulle rive della Loira, dopo il disastro di Sciolet, perché l'armata cattolica si trova in una condizione terribile, perché alle sue spalle c'è l'esercito repubblicano, vengono distrutti i paesi, incendiati, si alzano nere colonne di fumo da tutto il territorio. È qualcosa di terribile, si sa perfettamente che l'esercito repubblicano non farà prigionieri, altro che il perdono di Bonchamp. Davanti c'è la Loira, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una sola via di fuga, e questa via passa attraverso la Loira. E vedete, un tempo i fiumi non erano quel accidente del territorio che sono adesso. Sostanzialmente c'è un ponte, ci passi dall'altra parte, se non c'è il ponte devi allungare, cercare un ponte il più vicino, ma non sono un ostacolo, semmai perdi cinque minuti per fare il giro. All'epoca trovare un fiume significava trovare un ostacolo spesso insormontabile, perché serviva un guado. E questo guado non sempre era indicato, era segnalato, bisognava trovare un batteliere che ti portasse dall'altra parte, già ma un batteliere porta qualche persona, non porta 80.000 persone. 80.000 persone sono una cifra inverosimile, non riusciamo neanche a immaginare quante possano essere, sono un capoluogo di provincia. E perché sono 80.000 persone? Non sono tutti soldati. Intendiamoci, sono anche soldati, ma spesso appunto sono contadini, ma ci sono anche i bambini, i ragazzi, le mogli, le famiglie, perché oggettivamente lasceresti la tua famiglia nel tuo paese con la discreta sicurezza che potrebbe essere ammazzata anche in malo modo, vengono tutti insieme all'armata. Ecco, ma questo comporta un rallentamento e in una situazione drammatica come quella di Cholet può essere un qualcosa di fatale. e allora bisogna passare il fiume. E come si passa il fiume? Si prega, si spera che arrivi un aiuto e avviene un miracolo, il miracolo della Loira, così viene chiamato effettivamente. 80.000 persone riescono a passare la Loira nell'arco di una manciata di ore, sorprendendo i repubblicani che non si aspettavano una cosa del genere, e soprattutto sorprendendo gli stessi vandeani, che non si capacitano di come sia possibile passare un fiume con una manciata di imbarcazioni in poche ore. Di nuovo la Marchesa dell'Escure, e tra l'altro questa cosa che vi sto leggendo è immortalata in un celebre quadro che è l'Escure che passa la Loira, ferito, ecco, la Marchesa si trova proprio vicino al nostro generale ferito. Durante tutta la notte del 17, 17 ottobre, i vandeani si erano portati nei pressi di Saint-Florent-le-Viei. I nostri soldati bretoni e la gente della riva destra avevano portato alcune barche. Si chiamava i fuggiaschi e si diceva venite amici nel nostro paese, dall'altra parte della Loira, non vi mancherà nulla, siamo sostenitori dei monarchici. I vandeani si precipitarono sulle barche, così, quando la mattina del 18 ottobre giunsero gli ufficiali, il passaggio era già iniziato. Noi avevamo lasciato Chaudron durante la notte. Il signor dell'Escure fu portato in un letto che avevamo coperto nel miglior modo possibile. Egli soffriva terribilmente. Viaggiavo al suo fianco ed ero incinta di tre mesi. Il dolore e l'inquietudine mi tormentavano. Rapidamente siamo arrivati a Saint-Florent e mi è apparso lo spettacolo più grande e più triste e immaginabile. Spettacolo che non lascerà mai la memoria degli sventurati vandeani. Le alture di Saint-Florent formavano una specie di semicerchio, in fondo al quale si trova una vasta spiaggia pianeggiante che si estende fino alla Loira. Molto ampia, 80.000 persone si accalcavano in quella valle. Soldati, donne, bambini, anziani, feriti, tutti erano ammassati, fuggendo dagli omicidi e dal fuoco. Dietro di loro si vedeva salire il fumo dei villaggi incendiati dai repubblicani. In questa folla confusa tutti cercavano i genitori, gli amici, i difensori, e non sapevano quale destino stavano andando incontro dall'altra parte. Tuttavia si affrettarono a passare. Una ventina di grandi barche trasportavano i fuggitivi. Altri cercavano di attraversare a cavallo. Molti di noi hanno confrontato questa disperazione, questa terribile incertezza, questo spettacolo immenso, questa folla perduta, questa valle, questo fiume che abbiamo dovuto attraversare con il giorno del giudizio. Tra parentesi, pare che sia morta una sola persona durante questo attraversamento. Notiamo come la Marchesa dell'Escure sia incinta di tre mesi. Abbiamo visto anche la Marchesa de Beauchamp, che abbiamo visto all'inizio di questo nostro incontro, che anche lei era incinta. Quindi ci troviamo anche con delle donne che devono reggere da sole la sofferenza di una guerra, l'incertezza per sé, per la propria creatura, per la propria famiglia. è qualcosa che ci fa ancora entrare di più nel dramma di questa guerra e di questa situazione veramente terribile che stavano vivendo queste persone. I generali, i generali vandeani, sono in buona parte feriti, molti feriti gravemente. L'Escure, ad esempio, morirà in carrozza un po' dopo. Anche Monsignor Del Bé, che è stato un altro importante capo vandeano, in quel momento era tra gli organizzatori dell'esercito, morirà per le 14 ferite che aveva, gravemente ferito, sarà finito dai soldati repubblicani che lo presero e appunto lo condannarono a morte. Tra l'altro esiste ancora la poltrona sulla quale fu fucilato Del Bé e considerata una sorta di cimedio poltrona. Perché? Perché era ferito e non riusciva a reggersi in piedi. Quindi in questa situazione restano pochi comandanti in gamba, capaci, tenaci. La Rojaclan, ad esempio, che è il più impalido dei generali vandeani. L'abbiamo visto, abbiamo letto una breve descrizione che lo contraddistingueva. Aveva anche un motto, la Rojaclan. Ecco, è lui che prende il controllo dell'esercito vandeano. Viene nominato nuovo generalissimo. Si fa una riunione dei generali vandeani per capire dove andare, cosa fare adesso, che si è dall'altra parte della Loira. Il principe di Tolmont propone di andare verso nord per inseguire la speranza che arrivino gli inglesi a dare una mano. Ma ci sono anche altre proposte, la proposta di rimanere sul territorio, di combattere, continuare a difendere la propria patria. Non dimentichiamo che questi sono contadini che vogliono difendere casa loro. Si discute. Teniamo anche conto, appunto, del valore dei generali vandeani che sono molto coraggiosi, per carità, ma anche loro sono in questa situazione ob torto collo. Molti di loro vorrebbero sinceramente tornare nel loro castello e sperare di essere perdonati e sperare che questa parentesi finisca presto. Non ve ne avevo parlato prima, alcuni proprio sono stati costretti a partecipare alla guerra. Uno di loro, se non ricordo male Charette, è stato trovato sotto il letto quando sono arrivati i contadini a chiamarlo e sono stati obbligati molti a partecipare. Quindi molti vorrebbero tornare effettivamente nelle loro case. Hanno anche una famiglia. se ci sono ancora i loro case, i loro castelli, molti sono stati incendiati e distrutti. Quindi è una situazione tesa. Si mette ai voti, vince il parere di Talmont, bisogna andare verso nord. Bisogna andare a Grunville, che è la città nella quale si pensa debba sbarcare l'armata inglese. Già, ma Grunville è in Normandia. Bisogna attraversare una vasta porzione di Francia e perlomeno si ha una discreta sicurezza di trovare degli aiuti, perché anche la Bretagna è insorta. Noi abbiamo raccontato la storia della Grande Ormè Cattolica Royale, cioè dell'esercito cattolico e reale vandeano. Io non vi ho detto che anche la Bretagna è insorta. si ricorda un po' meno, essenzialmente perché non c'è un vero esercito regolare, ma ci sono dei capi bretoni attorno ai quali viene raggruppato un piccolo manipolo di contadini, piccolo non tanto, o comunque dei gruppi di contadini insorti. I bretoni prendono un nome particolare, sono gli Schwann. Gli Schwann bretoni costituiscono un'altra porzione della controrivoluzione e continueranno a combattere anche loro molto a lungo, quindi l'armata pensa di trovare dall'altra parte un appoggio degli Schwann, cosa che in parte avviene, ma si trovano anche le altre truppe repubblicane che sono intenzionate a fermare l'avanzata verso nord dei Vandeani, avanzata che in realtà è più una rotta che un'avanzata, perché si insegue questo sogno, questa speranza che vi siano effettivamente i rinforzi inglesi, ma è una speranza che si dimostrerà vana, perché quando si arriva a Granville si scopre che gli inglesi non ci sono, che il mare è deserto, altro che sbarco in un'opera e che Granville non si può prendere, perché è troppo ben difesa. I Vandeani riescono a liberare dei sacerdoti che erano fatti prigionieri a Mont-Saint-Michel, ma a quel punto bisogna necessariamente constatare che è fallita l'operazione. Quest'operazione, questa virata verso nord prende il nome di Vire de Galerne ed è essenzialmente la disfatta dell'esercito vandeano che è vero vince degli scontri, ma siamo in autunno, un autunno che diventa rapidamente inverno, non c'è il sostegno che si pensava della popolazione, non c'è l'approvvigionamento, mancano i viveri, è un periodo freddo, le campagne vengono funestate dal maltempo, si marcia nel fango e teniamo conto che si marcia nel fango, si mangia male, la denutrizione provoca l'indebolimento fisico, molti si ammalano, la dissenteria dilaga, dilaga il tifo, questa povera gente deve marciare a piedi verso non si sa dove e ormai non ha più la baldanza di un tempo, sono tutti indeboliti, infiacchiti, un esercito di spettri, di fantasmi tormentati dalle malattie e dal maltempo. Si può capire perché quando l'esercito, quello che resta dell'esercito, arriva a Le Mans e si riesce a prendere la cittadina, ecco, non ha la capacità, la forza di resistere alle armate repubblicane che intervengono e massacrano tutte le persone che trovano indistintamente, non si fa distinzione tra bandeani insorti, repubblicani o semplicemente cittadini di Le Mans. A Le Mans avviene una strage difficilmente comprensibile anche perché effettivamente da adesso dobbiamo dire che la nostra conferenza, il nostro percorso attorno alla Vandea e seguendo l'armata si sta tingendo sempre più di tinte fosche e raccapriccianti. Anche io ammetto che nel preparare la conferenza ma soprattutto adesso nel dovervela raccontare ho dei problemi perché le crudeltà e le feratezze sono davvero tante difficili da narrare e anche insomma per chi ascolta potrebbero esserci delle effettivamente delle sofferenze nel doverlo sentire è commovente questa storia è una storia che sicuramente ci lascerà sconvolti perché questa gente che aveva un sogno aveva un sogno positivo negativo quello che volete voi ma combatteva per la propria patria per la propria famiglia per il proprio paese viene massacrata in modi bestiali allucinanti da un esercito di barbari possiamo utilizzare il linguaggio che usavano i repubblicani ma al contrario riferendolo effettivamente all'armata francese vengono massacrate in modalità che sono condannabili ed esecrabili perché quello che avviene in Bandea è difficilmente immaginabile ancora oggi dopo il massacro di Le Mans il 23 di dicembre antivigilia di Natale l'esercito vandeano quello che resta dell'esercito viene finito completamente a Sovignet un'area paludosa dell'Ovest in parte i capi vandeani erano riusciti a mettersi in salvo dall'altra parte della Loira che era in piena perché stavano cercando di fare una testa di ponte e far passare questa povera gente dall'altra parte del fiume non ce la fanno si divide l'esercito la Roja Klan ad esempio riesce a passare non riescono a passare molti altri che vengono appunto finiti dalle armate di Westermann che è il le boucher de la Vendée il macellaio della Vendée come veniva detto ed effettivamente Westermann è uno dei peggiori dei maggiori responsabili dei massacri che avvengono in Vendée in questo momento operati dall'esercito regolare contro dei civili sostanzialmente sbandati che avevano la sola colpa di essere vandeani Westermann scriverà queste righe famose tra l'altro va detto che si sta discutendo se sono scritte davvero da lui perché pare che non esista il documento originale almeno questa è la discussione che se ne fa in Francia resta il fatto che sono entrate nella storia e quindi ve le leggo non vi è più bandea cittadini repubblicani è morta sotto la nostra libera spada con le sue donne e i suoi bambini l'ho appena sepolta nelle paludie nei boschi di Savigny secondo gli ordini che mi avete dato ho schiacciato i bambini sotto gli zoccoli dei cavalli e massacrato le donne che almeno quelle non partoriranno più briganti non ho un prigioniero da rimproverarmi ho sterminato tutto le donne notoriamente nel linguaggio repubblicano le donne briganti vandeane che avevano appunto come unica colpa quella di essere nate in vandea di aver osato prendere le armi contro la magnanimità della rivoluzione erano considerate dei solchi riproduttori e chiaramente i figli erano potenziali briganti briganti in potenza da grandi sarebbero diventati anche loro dei briganti dunque da sterminare nei modi più creativi e terribili i modi terribili prendono il nome di colonne infernali e già il nome direi che evoca tutto l'inferno c'è un altro termine che possiamo usare tutto l'inferno di questo momento tra l'altro partono queste colonne il 21 di gennaio 1794 e chi ha presente la data ricorderà che è l'anniversario della decapitazione di Luigi XVI quindi viene scelta una data particolare per far partire delle spedizioni punitive perché ormai la Vandea è sconfitta l'armata non c'è più devastata l'ha detto Westermann prima ma restano i Vandeani e i Vandeani sono in potenza dei controrivoluzionari sono in potenza dei ribelli e poiché la rivoluzione è squisitamente ideologica non si può permettere di avere della gente che anche solo in potenza possa pensare diversamente sono contadini sono cattolici e dunque vanno annientati la repressione del dissenso in questo caso si applica con delle colonne di soldati che attraversano e devastano ogni paese viene sistematicamente passato per le armi anche più volte per essere sicuri di non trovare di non lasciare gente viva magari qualcuno scappava fuggiva nei boschi più volte le colonne attraversano i paesi incendiano quello che si era salvato una volta potrebbe non salvarsi la seconda e di questo passaggio agghiacciante organizzato scientificamente scientificamente non è organizzato a caso viene predisposto un tragitto e ogni colonna parte con l'unico intento di ammazzare di distruggere di depredare di spogliare qualunque cosa passi davanti ai soldati le scene che ci sono pervenute dalla Vandea hanno una crudezza che appunto vi dicevo prima mi rende quasi difficile dovervele riferire ma bisogna farlo per onestà storica e quindi dobbiamo seguire questo passaggio delle colonne infernali che attraversano i territori della Vandea e sentire quello che dicono i testimoni quelli che hanno avuto la possibilità di vedere quello che è avvenuto una scena veramente da inferno da inferno dantesco e va detto che i repubblicani danno sfoggio in questo caso di tutte le tecniche di tortura possibili e immaginabili e sono gli anticipatori io posso ben dire di molte delle degli stermini successivi direi che si possono assomigliare allo sterminio dei nazisti in un certo senso allo sterminio sovietico allo sterminio di tutti i regimi perché questo è un regime a tutti gli effetti siamo nella Francia giacobina è un regime e dunque scopriremo ai noi alcune tecniche di morte che ci possono far pensare a delle tragedie dell'epoca presente a cominciare da questa testimonianza della contessa della Buea facevano dei buchi per terra per sistemarvi delle caldaie allo scopo di raccogliere quello che colava avevano messo al di sopra delle sbarre di ferro e su questa gettavano le donne poi ancora al di sopra vi era il fuoco quello che colava era come grasso di mummia e serviva per gli ospedali quindi si ricavava il grasso dalle donne e dai bambini che chiaramente venivano bruciati bruciati vivi e questo non è solo la contessa che lo rivela anche questa testimonianza del chirurgo Tumà ho visto bruciare vivi uomini e donne ho visto 150 soldati maltrattare e violentare donne e ragazzine di 14 e 15 anni massacrarle subito dopo e lanciare di baionetta in baionetta tenere i bambini rimasti a fianco delle loro madri stese per terra le colonne infernali sono guidate da dei generali che in alcuni casi dimostrano di avere ormai perduto qualunque contatto con l'umanità ferocemente accecati dalla loro idea dalla loro ideologia dalla loro sete di sangue tra questi sicuramente la colonna più violenta può essere quella di Etienne Cordillier che è il generale che comanda la colonna che si macchia dei massacri più terribili come quello più celebre di tutti celebre insomma più famoso tristemente famoso che è quello di Lelux-sur-Boulogne che è avvenuto il 28 febbraio 1794 in questo massacro morirono 564 persone sono 564 civili e vorrei far presente che appunto gli eserciti nel passato se la prendevano tra eserciti cioè erano questioni prevalentemente di guerra di un esercito contro l'altro in rari casi c'erano delle rappresaglie sui civili in questo caso la guerra di Vandea provoca morti in numero impressionante tra i civili e chiaramente provocati dai repubblicani di queste 564 persone 109 sono bambini sotto i sette anni quindi questo aggiunge orrore all'orrore e alle Lelux-sur-Boulogne c'è oggi una cappella sulla quale c'è proprio raffigurata l'armata repubblicana nella vetrata che compie appunto questo massacro è un luogo un po' dimesso famoso appunto nella Vandea e questo massacro è probabilmente il più tristemente noto degli episodi repubblicani tra le varie citazioni che ho preso mi perdonerete appunto della violenza ma penso che siano documenti che devono essere citati viene una che è riferita appunto dai testimoni di allora una donna travagliata dai dolori del parto era nascosta in una casupola presso questo villaggio dei soldati la trovarono le tagliarono la lingua le squarciarono il ventre ne tolsero il bambino con la punta delle baionette le urla di quella disgraziata si sentivano da un quarto di lega quando si arrivò per soccorrerla stava aspirando si deve a un sacerdote Charles Vincent Barbadette la raccolta dei nomi di questi poveri disperati che sono stati ammazzati i quali nomi sono oggi incisi sulle mura di questa cappella a eterno ricordo ecco molte cappelle nella Vandea molte chiese hanno i nomi delle vittime con anche le età e talvolta non c'è l'anno ma ci sono i mesi e questo ci fa capire che qua si tratta di bambini a volte neanche di un anno un altro sacerdote che si impegna per testimoniare l'accaduto è il parroco di La Chapelle Basmer Don Pierre Marie Robin il quale raccoglie i nomi dei suoi parrocchiani deceduti e testimonia quello che è avvenuto a La Chapelle sono morte 118 persone là vi erano povere fanciulle completamente nude sospese ai rami d'alberi con le mani legate dietro la schiena dopo essere state violentate fortunate ancora quando in assenza dei blu qualche passante caritatevole veniva a liberarle da questo vergognoso supplizio qui con raffinatezza di barbarie forse senza precedenti donne incinte venivano stese e schiacciate sotto dei torchi membra sanguinanti e bimbi in fasce erano portati in trionfo sulla punta delle baionette una ragazza di La Chapelle fu presa dai carnefici che dopo averla violentata l'attaccarono a una quercia testa in giù le gambe erano attaccate ognuna separatamente a un ramo d'albero e discoste il più possibile e in questa posizione le fendettero il corpo con la sciabola fino alla testa e la tagliarono in due questi sono episodi avvenuti davvero in Vandea e che dimostrano che questa non è più una guerra è diventato l'inferno in terra le colonne infernali potete capire come questa gente fosse completamente disperata ormai continuasse a combattere essenzialmente perché non aveva più nulla da perdere dunque le colonne infernali non servono a niente se non a alimentare ancora di più una rivolta disperata di questa povera popolazione che ha un'unica colpa quella di essere nata in Vandea e di essere cattolica non solo perché vengono anche fatti i prigionieri molti sono i prigionieri dell'armata cattolica che vengono sono stati presi durante le battaglie e non sono stati uccisi subito altri sono i prigionieri che sono già nelle carceri ad esempio a Nantes sono tanti prigionieri nelle carceri in genere sono sacerdoti sono i sacerdoti refrattari ancora in prigione quando è scoppiata la rivolta della Vandea e allora cosa fare di questa gente e arrivano troppi prigionieri insomma a Nantes si pensa che vi sia la soluzione quella di ammazzarli tutti in maniera sommaria ma le fucilazioni non sono sufficienti e la ghigliottina lavora troppo lentamente ci sono migliaia e migliaia di prigionieri tra l'altro a Nantes si rischia anche lo scoppio di un'epidemia seria dovuta alla presenza di tutte queste persone molte delle quali come sappiamo sono già ammalate quindi c'è il rischio di uno scoppio di un'epidemia violenta in città e un rappresentante in missione del governo sostanzialmente appunto un commissario del governo Carrier che è probabilmente quello che si è macchiato dei crimini più atroci nella Vandea inventa la deportazione verticale nella vasca da bagno nazionale cioè gli annegamenti deportazione verticale nella loira che come vediamo ritorna come fiume purtroppo nella storia della Vandea e Annan si risolve la presenza dei prigionieri mandandoli su dei battelli che vengono fatti colare a picco e i prigionieri chiaramente affogano nel fiume non solo ma si inventano anche i modi più creativi per ammazzare i prigionieri il modo più creativo forse tristemente creativo che vuole irridere la fede dei Vandeani e anche quella dei sacerdoti è quello di praticare il cosiddetto matrimonio repubblicano cioè l'annegamento di un uomo e una donna nudi in genere l'uomo è un sacerdote che vengono legati insieme e buttati nel fiume su questi annegamenti vi sono più testimonianze io ne leggo alcune che appunto sono state tramandate amico mio ti annuncio con piacere che i briganti sono proprio distrutti il numero di loro che ci viene portato qui da otto giorni è incalcolabile ne arrivano in ogni momento poiché fucilarli è troppo lungo e si consumano polvere e pallottole si è presa la decisione di metterne un certo numero in grandi battelli condurli in mezzo al fiume a una mezza lega dalla città e la si colapica il battello e questa operazione si fa ogni giorno notiamo anche il tono assolutamente dimesso di queste comunicazioni che sono cose quotidiane e routine all'inizio gli annegamenti si facevano di notte ma il comitato rivoluzionario non tardò a familiarizzarsi con il crimine e diventò più crudele e da questo momento gli annegamenti si fecero in pieno giorno all'inizio gli individui venivano annegati con i loro abiti ma in seguito il comitato spinto dall'avidità e dalla raffinatezza della crudeltà spogliava dei vestiti quelli che si voleva immolare alle diverse passioni bisogna anche che vi parli del cosiddetto matrimonio repubblicano che consisteva nelle gare insieme sotto le ascelle un giovane e una giovane completamente nudi e precipitarli nelle acque e qui ci sono proprio anche le testimonianze di chi va a indagare su quello che avviene e allora va a intervistare le persone e scopre che cosa sta avvenendo a Nantes due chiatte cariche di individui si fermarono in un luogo chiamato Prère au Dac lì io e i miei compagni abbiamo assistito alla più orribile carneficina che si possa vedere più di 800 di individui di tutte le età e di tutti i sessi sono stati annegati in modo disumano e fatti a pezzi ho sentito gli uomini rimproverare ad alcuni di loro di non sapere come impugnare una sciabola e con il suo esempio mostravano loro come farlo le chiatte non stavano affondando abbastanza velocemente i corpi allora sono stati messi uno sull'altro e si sono stati trafitti le orribili grida di queste sfortunate vittime non fanno che animare ulteriormente i loro carnefici e ho osservato che tutti gli individui che sono stati annegati durante questa notte sono stati precedentemente spogliati e in vano le donne hanno chiesto che fossero lasciate loro le camicie tutto fu rifiutato i loro vestiti i loro gioielli tutto era preda di questi cannibali e ciò che sarà difficile da credere è che coloro che li avevano così spogliati vendettero il bottino il mattino successivo al miglior offerente quindi si creava anche un commercio di questi oggetti un commercio macabro sono tutte cose che ci possono appunto far riportare alla mente episodi neanche tanto lontani nel tempo però non tutti i soldati sono sono così incattiviti c'è ancora qualcuno che ha ancora un po' di umanità per fortuna e che si rende conto che quello che sta avvenendo in Bandea non ha senso non è più una guerra è un macello è un inferno e allora vi è qualcuno che ha il coraggio perlomeno di scrivere nelle corrispondenze o di denunciare apertamente a me scrive l'ufficiale di polizia Ghanet fa accendere i forni e quando vi sono ben caldi vi getta le donne e i bambini gli abbiamo fatto delle rimostranze ci ha risposto che è proprio così che la Repubblica vuole cuocere il suo pane inizialmente si sono destinate a questo genere di morte le donne briganti e noi non abbiamo detto molto ma oggi le grida di queste miserabili hanno tanto divertito i soldati e Toureau che hanno voluto continuare questi piaceri mancando le femmine dei monarchici si sono rivolti alle donne dei veri patrioti e abbiamo voluto interporre la nostra autorità e i soldati ci hanno minacciato la stessa sorte qui si parla di Toureau che è uno dei capi repubblicani un altro degli importanti generali dell'armata repubblicana che si è macchiato in modo particolare delle stragi di questo periodo sono in particolare tre i generali repubblicani che dobbiamo ricordare sono Toureau sono Vestermann e Clébert Clébert devo dire che forse tra i tre è il meno responsabile è quello generale che ha combattuto l'armata vandeana vera e propria ma gli altri due si sono macchiati di crimini che sono effettivamente possiamo capirlo disumani altri soldati si oppongono il generale dei brigata Denis Kahn 20 ottobre 1794 da un anno grido contro tutti gli orrori dei quali sono stato sventurato testimone molti cittadini mi hanno preso per uno stravagante ma dirò e proverò quando lo si vorrà che ho visto massacrare i vecchi nel loro letto scozzare i bambini sul seno delle madri ghigliottinare donne incinte e anche all'indomani del parto ho visto bruciare immensi magazzini di grano derrate di ogni tipo mi è impossibile fare un resoconto preciso ma se fossi chiamato a testimoniare mi servirebbero otto giorni per fare un memoriale nel quale sporrei a tutti i veri amici della Repubblica gli intrighi di questa guerra sulla quale si è costantemente mentito iniziano dunque a esserci delle persone che si oppongono timidamente chiaramente siamo nel periodo di Robespierre non si può rischiare di essere sospetti perché sapete che c'è la legge dei sospetti per cui una persona rea di essere sospetta può essere imprigionata in maniera arbitraria mandata a morte in maniera del tutto arbitraria deve difendersi ma chiaramente è una farsa tutto questo quindi timidamente qualcuno prova a dire basta e chiaramente la fine dei massacri in Vandea può avvenire soltanto quando avviene il termidoro cioè quando Robespierre finalmente viene tolto dalla carica di governo e tutti i giacobini principali vengono ghigliottinati Robespierre Couton Saint-Just finiscono tutti sulla ghigliottina finisce il terrore giacobino tra parentesi terrore terrorismo sono parole che vengono fuori dalla rivoluzione francese sapete i terroristi sono i primi a dirsi terroristi sono i rivoluzionari francesi chiusa la parentesi e fortunatamente grazie a queste testimonianze grazie alla testimonianza di Babbeuf che è uno dei primi che conia proprio un termine per quello che è avvenuto in Vandea nazionicidio genocidio è il primo che ne parla ecco si inizia a richiamare i generali repubblicani e le persone che si sono macchiate dei crimini in Vandea e vengono processate e anche loro legate in qualche maniera al regime vengono ghigliottinate e per fortuna Westermann viene giudicato colpevole Carriere viene giudicato colpevole ma non tutti Turro ad esempio riesce a sopravvivere e continuerà avrà il suo libro di memoria sulla guerra di Vandea e tra parentesi quando Luigi 16 Luigi 18 scusate vorrà andare a visitare la Vandea al suo ritorno sul trono da chi mi faccio accompagnare da Turro magari anche no ecco tutti ma non lui quindi si comprende già di qua questa ambiguità della monarchia che non ha saputo in un certo senso sfruttare la genuina vicinanza dei contadini Vandeani la guerra contro i generali Vandeani è in sostanza finita nel febbraio 1795 viene firmata una pace una pace tra i due ultimi generali Vandeani rimasti Charette e Stofflé che vengono stipulano una pace separata ma è un trattato che dura poco in sostanza perché? perché la Vandea è distrutta la Vandea è distrutta non riescono ad avere quello che chiedono cioè che venga rispettato vengano rispettati i punti del trattato e si trovano una regione completamente distrutta notiamo appunto come il passaggio delle armate repubblicane abbia raso al suolo interi paesi Secher che ha scritto un importante libro sulla storia della Vandea ha fatto una ricerca puntuale sulla storia della Vandea ha anche calcolato la quantità di patrimonio immobiliare distrutto oltre a stipulare un possibile numero delle vittime che è comunque estremamente dibattuto non si sa quante persone siano morte nelle guerre di Vandea a seconda degli storici il numero oscilla tra le 100.000 e le 600.000 quindi c'è un numero estremamente ampio una forbice estremamente grande che non ci permette di dare un numero preciso ma in ogni caso nella stragrande maggioranza si tratta di civili di civili e non di soldati la repubblica ha perso molti uomini ma nella stragrande maggioranza si tratta della popolazione la Vandea perde il 14% della popolazione e altre province perdono molte altre molte altre vite anche la Bretagna viene duramente colpita dalla repressione repubblicana non abbiamo parlato non c'è tempo di parlare anche della Bretagna ma la repressione repubblicana si sente in tutta l'area che è stata insorta ecco immaginate voi di tornare e di trovarvi completamente in un paesaggio marziano devastato gli alberi incendiati i boschi incendiati certo perché bisognava stanare i briganti nei boschi i paesi non ci sono più la gente è stata ammazzata bruciata viva squartata è una pace che devi veramente digerire con una grande grande dose di pazienza e sperare che si possa in qualche maniera ottenere qualcosa di più più avanti sperare che crolli comunque il regime poi trovate ancora l'ultima beffa cioè quella di non avere i sacerdoti perché si tratta sempre di preti refrattari che sono stati ammazzati quindi avete perduto l'identità del paese e scoprite che buona parte dei beni che erano parte della chiesa ecco sono finiti in mano agli amici degli amici sono avvenute privatizzazioni di tutto quello che era il patrimonio il patrimonio della chiesa qualcosa che insomma ha impoverito le parrocchie sono avvenute privatizzazioni e spogliazioni delle vecchie fattorie e i tesori dei castelli se ne sono andati tutto è finito appunto nelle mani degli amici del potere e si trattava anche di importanti luoghi d'arte tesori molto grandi dei veri pioppi gioielli che sono spariti sia dalla Vandea sia dagli altri territori dove sono avvenute le repressioni dei repubblicani insomma in questa maniera possiamo capire che quando un governo è in difficoltà e ricorre a delle privatizzazioni ecco sono cose abbastanza attuali senza dover entrare nel nel discorso dei massacri del di cui stiamo parlando tutto questo ci fa capire come la pace sia sia incerta e difficile che venga rispettata tanto più quando muore Luigi XVII che è il povero figlio di Luigi XVI nessuno se lo ricorda più poveretto effettivamente è il re per i monarchici ma è un bambino un bambino di dieci anni imprigionato nella torre del tempio di Parigi che viene tra l'altro detenuto in condizioni disumane malato non viene curato viene dato del cibo poco e scarso sotto sempre la costante oppressione psicologica dei suoi carcerieri chiuso non può uscire e chiaramente in questa situazione questo povero bimbo muore tra l'altro appunto orfano di padre di madre la morte di Luigi XVII è un po' la miccia che fa accendere di nuovo una seconda ondata di rivolta in Bandea perché c'è ancora Charette se ricordiamo Charette è intenzionato ad andare avanti e vuole a tutti i costi continuare questa guerra che ormai appunto ha perso tutto tanto vale continuare e cercare di dare perlomeno fastidio fare operazioni di disturbo ha capito che quello può essere ancora una strada per la guerra in Bandea anche Charette verrà alla fine preso verrà preso stanato ecco nei boschi dove si era rifugiato tra l'altro il generale che se lo trova davanti dirà quanto eroismo perduto di fronte alla cattura di Charette e lui risposerà l'eroismo non è mai perduto è un uomo grandioso Charette sotto questo aspetto e Charette quando verrà fucilato a Nantes sarà lui che ordinerà al plotone d'esecuzione di fare fuoco con la morte di Charette finisce la seconda fase della guerra di Bandea la seconda guerra di Bandea che come vedete è intanto una recrudescenza della prima ci saranno altre due guerre di Bandea nel 1799 quando si sperava che l'esercito degli austrorussi in Italia riuscisse a far vacillare la Repubblica sapete l'epoca in cui Napoleone in Egitto in Italia arrivano gli austrorussi di Suvorov e quindi si spera che si possa in qualche maniera vincere grazie all'aiuto degli austrorussi non avviene l'insurrezione del 99 è un fiasco ma la Bandea come vedete continua a essere in rivolta l'avete devastata non è andata giù la pace i Vandiani continuano a nutrire questa volontà di rivolta nel 1813 con la sconfitta di Napoleone in Russia il disastro di Lipsia i Vandiani ritornano in armi e tra l'altro ritornano con parenti anche dei vecchi generali ritorna la famiglia Rojacclan ritornano insomma gli importanti capi di prima o la famiglia che cercano di sollevare nuovamente la Vandea e questa volta fino al 1814 quando effettivamente i Borbone ritornano sul trono a quel punto possono essere lieti di avere contribuito nel loro piccolo a far cadere il regime di Napoleone Bonaparte regime che tra l'altro non li aveva particolarmente in odio perché bisogna dire che Napoleone si era anche speso per pacificare la Vandea a suo modo anzi lui lo scrive nel suo memoriale che se lo mette un po' come una medaglia a dire caspita sono riuscito a pacificare la Vandea sono riuscito a essere quell'elemento di mediazione per cui caspita i Vandeani possono tornare ad avere la loro vecchia libertà ma non avevano nessuna voglia evidentemente di avere un figlio della rivoluzione a capo della Francia loro volevano il principe legittimo cioè Luigi XVIII che tra l'altro come abbiamo visto prima non nutre esattamente un grande un grande favore nei confronti dei Vandeani anzi già nel corso della seconda guerra di Vandea si attendeva lo sbarco dei principi francesi aiutati dagli inglesi sulle coste della Normandia è qualcosa che abbiamo già visto che era già avvenuto durante la Via de Galerne 1793 si aspettavano i principi come nell'anno nel 93 si aspettavano gli inglesi il risultato è che non viene nessuno e anche qua la marina inglese non aiuta allo sbarco i principi non verranno non guideranno la rivolta e quando riusciranno effettivamente a tornare sul trono dovranno fare i conti con i Vandeani che volevano a tutti i costi essere i migliori amici ma Luigi XVIII di avere come amici i Vandeani non ha assolutamente voglia Luigi XVIII si sente umiliato da questa armata raccogliticcia che ha saputo tenacemente dimostrare dal 1793 al 1814 di essere a favore della causa monarchica dovevo ricorrere a dei contadini avrà detto e dunque si si mettono le croci sui luoghi delle battaglie dove sono stati catturati i generali Vandeani si commissionano anche dei quadri che raffigurano questi generali poliografici tra l'altro le famiglie non sempre li riconoscono quindi sono delle opere celebrative va tutto bene però calma perché la Vandea non deve essere proprio considerata come colei che ha salvato la Francia è un episodio della rivoluzione tra l'altro noi non la dispreziamo poi così tanto questa rivoluzione e la restaurazione d'altronde che cos'è è un tentativo imperfetto di ritorno all'ordine precedente i 15 anni di Napoleone poi tutti gli anni della rivoluzione sono tanti tanti anni e ormai le idee rivoluzionarie sono entrate nella mente delle persone e ormai lo stesso entourage dei Borbone è figlio di quella rivoluzione in tutte le monarchie restaurate abbiamo degli esponenti della rivoluzione che si sono cambiati l'abito si sono tolti il cappello dati una spolverata e si sono riproposti sulla scena politica vergini e questo trasformismo è qualcosa che penso sia assolutamente comune in tutti i tempi diciamo che in questo periodo di accesissime lotte ideologiche faceva storcere un po' il naso e per i monarchici conservatori reazionari di antico regime quelli puri trovarsi vicino degli esponenti che si erano macchiati di connivenza col regime bonapartista e con la rivoluzione non era facile però dovevi trangugiare il rospo e dire beh perlomeno c'è Luigi XVIII vive le roi ce lo teniamo e facciamo finta che non sia successo niente di fatto dunque la Vandea finisce come una pagina della guerra contro rivoluzionaria come un episodio come tanti della rivoluzione francese tra l'altro non parliamo troppo male perché molti si sono anche fatti i soldi nella guerra di Vandea e dunque se vai a grattare le privatizzazioni chi ne ha avuto dei vantaggi chi ha avuto dei vantaggi acquistando sotto banco i tesori insomma meglio dimentichiamolo è avvenuta questa cosa è morta tanta gente mettiamo due croci e la cosa finisce lì tant'è che gli stessi francesi fin da subito provano un certo fastidio nel ricordare la Vandea a meno che appunto non siano della parte reazionaria perché lo considerano come una macchia nella rivoluzione che comunque delle cose buone le ha fatte almeno questi erano i discorsi che si facevano all'epoca e dunque non stiamo a rivangare queste cose le teniamo un po' sotto traccia tutto questo comporta qualcosa di assolutamente singolare nel senso che in Francia dove ci sarebbe un governo un regime che può aiutare anche alla testimonianza può indagare cercando la verità può anche punire i colpevoli nel caso si trova a una situazione di sostanziale sostanziale tacitazione dei massacri della Vandea autori che vogliono descrivere la storia della Vandea si trovano boicottati ecco c'è il caso famoso di Gilles Verne che ha scritto questo romanzo il conte di Champelain che è un romanzo assolutamente poco noto di Gilles Verne e che ha faticato notevolmente per essere pubblicato è stato inizialmente pubblicato a puntate come molti dei romanzi di Gilles Verne e Gilles Verne tra l'altro era bretone quindi lui non scrive una cosa a caso scrive di qualcosa che ha visto nel suo territorio conosce bene i territori e sono cose che ha sentito nella sua giovinezza quindi conosce bene la realtà della Bretagna conosce bene i contadini Vandeani lui è un cattolico monarchico scrive un romanzo sulla Vandea viene pubblicato a puntate quando decide di pubblicarlo in volume l'editore dice guarda ne riparliamo poi perché rischieresti di indispettire i tuoi lettori e quindi sarebbe meglio evitare siamo a ridosso della comune di Parigi si può anche capire perché però sicuramente il conte di Chantelain è un romanzo che è assolutamente scomparso dalla bibliografia di Verne del quale si conoscono tante altre opere questa è assolutamente dimenticata e è stata edita pensate per la prima volta in volume soltanto a metà del novecento e neanche in Francia in Svizzera a Lausanna quindi questo ci fa capire come sia un bel problema per i francesi ricordare la Vandea altri autori hanno cercato di scrivere della Vandea ad esempio Hugo con il romanzo 93 e altri autori hanno parlato della guerra vandeana però sono sempre romanzi o libri sotto traccia considerati una chicca considerati una novità e dunque non dobbiamo ricordarli troppo consideriamoli come un qualcosa per appassionati e la cosa finisce lì purtroppo questo tipo di interpretazione del tutto sommaria della Vandea è andato avanti e tra l'altro se inizialmente veniva ignorata è stata anche poi apertamente criticata per cui si è demonizzato si è demonizzata la vittima cioè si sono demonizzati i vandeani colpevoli di essere insorti contro le magnifiche sorti progressive della rivoluzione colpevoli di aver fatto delle stragi per carità è una guerra civile e dunque le stragi si sono operate comunque ma sicuramente la versione patinata della rivoluzione francese ha deciso apertamente di eliminare la Vandea che infatti saprete qualunque sussidiario di scuola difficilmente la trovate nello stessa fiction in quattro puntate sulla rivoluzione francese realizzata nel 1989 che è stata anche una bella fiction noterete che la Vandea è completamente assente non c'è un'affermazione sulla Vandea si parla semmai c'è un momento in cui ad Anton vengono rimproverati i massacri in Belgio perché anche il Belgio ha avuto di questi problemi se non ricordo male in questa fiction come in altre opere sulla rivoluzione francese la Vandea è completamente assente quindi noi siamo tenuti a ricordare questi episodi perlomeno per amore della verità storica e anche per onore alle vittime ecco un autore che ha effettivamente conosciuto le efferatezze della repressione della dittatura come Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn è un autore che è stato molto vicino alla rivoluzione francese studiata e vicino chiaramente ai Vandeani ed è stato lui a inaugurare infatti un memoriale alle Lix-sur-Boulogne che se ricordate è quel paese dove c'è stato il massacro il 25 settembre del 93 io vorrei leggervi un piccolo estratto di questo discorso che è stato pubblicato poi sui giornali francesi e si trova appunto tradotto per molto tempo si è rifiutato di ascoltare e di accettare quanto era stato gridato dalla bocca di coloro che morivano che venivano bruciati vivi i contadini di un'alterra laboriosa per i quali sembrava fosse stata fatta la rivoluzione ma che la stessa rivoluzione oppresse e umiliò fino all'estremo limite ebbene proprio questi contadini si liberlarono contro di essa i contemporanei avevano ben colto che ogni rivoluzione scatena fra gli uomini gli istinti della barbarie più elementare le forze opache dell'invidia della rapacità e dell'odio essi pagarono un tributo decisamente pesante alla psicosi generale quando il fatto di comportarsi da uomini politicamente moderati o anche soltanto di sembrarli veniva considerato un crimine il secolo ventesimo ha notevolmente offuscato agli uomini agli occhi dell'umanità l'aureola romantica che circondava la rivoluzione nel secolo diciottesimo di mezzo secolo in mezzo secolo gli uomini hanno finito per convincersi partendo dalle loro stesse disgrazie del fatto che le rivoluzioni distruggono il carattere organico della società che danneggiano il corso naturale della vita che annientano i migliori elementi della popolazione dando campo libero ai peggiori che nessuna rivoluzione può arricchire un paese ma solamente quanti si sanno trarre di impiccio senza scrupoli che generalmente nel proprio paese produce innumerevoli morti un vasto impoverimento e nei casi più gravi un degrado duraturo della popolazione che è esattamente quello che è avvenuto in Bandea dove appunto ancora adesso se andate in giro troverete delle croci delle cappelle poche segnalazioni in modo molto dimesso sottaciuto ma percepite questo dolore questo dolore diffuso di una popolazione che si sente comunque erede della di questa contro rivoluzione tant'è che lo stesso emblema al vessillo del dipartimento della Bandea è ancora le Sacre Coeur quindi l'emblema bandeano e che dire noi oggi abbiamo cercato di ripercorrere una storia tragica perché è tragica fatta di eroismi e di immense carneficine qualcosa che personalmente mi ha toccato e ho anche fatto abbastanza fatica a leggere quanto ho letto senza chiaramente commuovermi senza avere anche un moto un istinto di repulsione per quanto andavo a leggere e purtroppo bisogna testimoniarlo bisogna ricordarlo perché fare storia vuole anche dire ricordare delle cose brutte e farne tesoro e soprattutto bisogna ricordarlo per dare una memoria e un onore a quante persone sono morte perché non esistono dei morti di serie A e di serie B e tutti i morti sono uguali bisogna saper celebrare e onorare i morti perché una società che non sa onorare i morti difficilmente potrà onorare i vivi grazie applausi applausi grazie a tutti Grazie a tutti.